Intorno alle 11 di venerdì sera in via degli asili nel centro storico di Lucca si è staccato il cornicione di una finestra che ha sfondato il tetto di una macchina posteggiata accanto al palazzo. La vettura è di proprietà dell'ex vice sindaco Domenica Uriccio che ha reso noto il fatto attraverso la sua pagina facebook. Il distacco è avvenuto da una finestra del secondo piano e a precipitare è stata una porzione del cornicione in pietra serena di svariate decine di chilogrammi. Nessuna persona è rimasta coinvolta e i vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a transennare l'intero palazzo in attesa di constatare la stabilità delle altre finestre che affacciano sulla strada.